sinistra 2 per destra 20 tornanti sinistra leva occhio che è stretto qua è 200 attenzione sta a sinistra per chicane 80 destra 3 50 attenzione tornante sinistra leva 30 deciso ecco quella leva sinistra 3 vai 80 sinistra per 3 chicane 100 attenzione sinistra 2 per destra 20 ed attenzione tornante sinistra leva andiamo a 200 attenzione sinistra per chicane 80 destra 3 50 attenzione tornante sinistra leva più convinto eh secco più secco 30 sinistra 3 vai 80 questa è sinistra per chicane 100 attenzione sinistra 2 ora un giro destra 20 tornante sinistra leva gestiscila eh che stretto un'uscita andiamo a 200 attenzione sinistra per chicane 80 scendiamo a destra 3 50 tornante sinistra leva attenzione convinto eh 30 scendiamo a destra 3 vai 30 scendiamo sinistra 3 vai 80 questa è a sinistra per chicane 100 andiamo top 2 a 0 7 bravo 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 bravo